Nel corso di questa sessione conclusiva E ora vediamo un'altra campionessa italiana assoluta del 2007 Maria Roberta Gerca, la vedete inquadrata, atletica Velletri Il titolo lei lo vinse indoor E essendo classe 2000 lo vinse al secondo anno allieva Pochissime le atlete che hanno vinto già da lieve il titolo italiano assoluto Sia l'aperto che l'indor 3.70 alla prima prova senza particolari patemi Mi stavo raccontando di Elena Scarpellini Della sua medaglia Ai campionati italiani assoluti di Skeleton Cambionati italiani assoluti di Skeleton Che si sono disputati a Eagles Che non sta in Italia in realtà Ma è una località austriaca Maria Roberta Gerca ora la campionessa italiana assoluta indoor nel 2017 Quando era ancora allieva Tentativo potenzialmente nelle corde della porta colori dell'atletica Velletri Ma che non va a segno Lei vinse il titolo italiano assoluto con 4 metri e 15 La misura più alta con cui si è vinto un titolo italiano è il 4 e 60 Sua allieva più illustre Ma tra gli allievi di Chiarello c'è anche Miani che ieri ha chiuso al terzo posto la gara maschile Maria Roberta Gerca intanto Un'altra atleta in caccia di riscatto dopo quell'errore impertinente a quota Alla prima prova a quota 3.90 Ancora un errore per Gerca Ancora un errore per Maria Roberta Gerca Che due stagioni non sono qui ed ancora Vinse il titolo italiano assoluto Un'altra atleta importante Quella di questa giovane atleta dell'atletica Velletri Che compirà 19 anni il prossimo 9 marzo La concentrazione di Maria Roberta Gerca 4 a 15 di primato personale al coperto In occasione del già più volte ricordato titolo italiano assoluto 4 a 10 all'aperto Va per tenere in vita il proprio concorso E purtroppo la sua avventura finisce qua È al momento settima Ma difficilmente resterà nelle prime otto Delusione e quasi lacrime per l'atleta laziale Era una delle atlete che poteva giocare un ruolo da protagonista Alle spalle ovviamente delle due prime attrici Grazie 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 a tutti.